Un anno e tre mesi che sono in netto, senza mai muovermi, sempre qua. Il signor Rino ha 86 anni, non può muoversi dal letto perché ha una gamba amputata e una serie di altri problemi. Vive ad Olo e i nipoti si prendono cura di lui. Qualche giorno fa, l'amara sorpresa. È arrivata una lettera da parte dell'Inps dove si chiede la revisione per quanto riguarda la visita per la pensione di invalidità. Per disposizione del medico, certificata, il signor Rino può spostarsi solo in ambulanza. Così accade per tutte le visite di controllo. Ma l'Inps non ci sente nonostante tempo fa la visita domiciliare ci fosse stata. La prima volta che hanno assegnato la pensione di invalidità, il medico legale dell'Inps è venuto qua, ha constatato la gravità delle condizioni dello zio e ha certificato e la pensione gli hanno data alla fine. Adesso ci troviamo, dopo un anno, che richiedono invece di andare lì da loro. Non so in che maniera potremmo fare perché provi a immaginarsi lei portare un ammalato davanti alla sede in via Fogazzaro, che siamo in pieno centro Mestre, con un'ambulanza, scaricarlo con una barella e entrare dentro i locali dell'Inps. Secondo il punto di vista mio è una cosa inaudita. Anche il Tribunale del malato di Dolo è intervenuto senza ottenere risposta e in tutta questa burocrazia a farne le spese sono i malati. Non so solo che mi, che sono mai, che ne sono tanti che mi hanno e che hanno diritto come me. E ora chi si vergogna? Anche il Tribunale del malato di Dolo è un'ambulanza. Anche il Tribunale del malato di Dolo è un'ambulanza. Anche il Tribunale del malato di Dolo è un'ambulanza.